E ci piace, però cazzo, allora salutiamo tutti i maschietti e tutte le femminucce, queste erano le passive, tutte le passive coraggiose, e gli attivi ci sono, chi ce l'ha piccolo e chi ce l'ha? Crosso! Ovviamente salutiamo tutti, tutto lo staff, sicurezza, barman, Deli, ciao Deli, Oscar, Franco, Francesco, Alberto Dice, produttore, Tino, tutti, tutti, il nostro art director, Tino Desimone, i nostri PR, io non gli dico due nomi, se no dico sempre gli stessi, allora dico tutti i PR, e questa notte presentiamo l'animazione, io voglio sentire il terremoto, anzi no, già c'è in giro terremoto, no no, basta con i terremoti, allora, è arrivata lei, felina più che mai, un applauso per Carla! Ma dove hai fatto? un applauso per le mani, su, volume, Carla! Ecco, un basso di froci, franchi! Alex! Ci piace! No, non ho ragazzi! E poi finalmente ritorna, dopo? Se due sabati fa gli hanno dato tre punti, tre, tre, al policlinico, al policlinico, ha fatto, ha fatto il lancio qui al Pingator e l'hanno portata, tutta truccata e parruccata al pronto soccorso, vedendola i dottori hanno detto, ma cos'è? E il nostro Dino Desimone ha detto, è un grande artista! Che culo! Che culo! Allora, facciamo un applauso a Raven Boys! Ciao, Peccator! Però l'applauso è più grande, insomma, quindi alzate ste manine e fatemele sentire! Lo voglio sentire per lei, la nostra! Chi? Alla paghe! Perché voi? E allora, iniziamo questa notte di troiaio! Io sono particolarmente contenta che questa notte è venuto qui in console, un graditissimo ritorno! Ci piace, ci piace! Buono, peccato che ad agosto si sposa! Ma noi non siamo gelose! Assolutamente, anzi, gli facciamo un bel addio, come si deve! Io voglio un applauso esagionato a Mr. Alvin DJ! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ma questa sera ci piace essere un po' No, 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 no No, 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 no